Si accomodi signora, prego. Signora, voi nel 1985 avevate una casa a Madonna dei Fornelli? Sì. Ricorda se invitavate amici nella domenica? Sì. Ricorda per caso se fra gli amici ci sono mai stati i signori Nesi Rolando e Nesi Lorenzo? Sì. 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 Ricorda nel 1985 se sono mai venuti da lei nel mese di settembre? La data non la ricordo, neppure l'anno. Neppure l'anno. Il Nesi Lorenzo è venuto più volte che lei ricordi? Una volta sola. Una volta sola. Con la moglie? Sì. Era insieme al Nesi Rolando? Sì. Non sa collocarlo nel tempo questa per nessun motivo? Assolutamente. Non ho altre domande, grazie. Signori Avvocati Parti Civile? Niente, grazie. Signori Avvocati della Difesa? Signora, lei ricorda soltanto una volta che il signor Nesi Rolando è venuto da Lorenzo, come si chiama Rolando da lei? No, sono due diverse. No, Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, quello di stamattina è Lorenzo. Lorenzo. Quello è Rolando. Rolando e Lorenzo. Ecco, il signor Lorenzo quante volte è venuto da lei? Una volta. Una volta, Lorenzo. Lorenzo. E Rolando? Più volte. Ecco, Rolando sarebbe il test originario? No, quello di stamattina. Quello di stamattina. Rolando e quello di stamattina. Quello di stamattina è venuto parecchie volte. Sì, sì. Ecco, parecchie volte. Aveva, non si ricorda che macchina avesse, no? No. No. Senta, veniva la domenica oppure anche altri giorni? Sabato, venerdì? Rolando? Sì. Ma già era domenica. Già era domenica. Qualche sabato è venuto? Ma non ricordo. Non se lo ricordo. Senta, signora, aveva, veniva con la moglie, con il bambino. C'aveva un bambino? Sì. Ecco, e normalmente cosa facevate? Mangiavate? No. Sto domandando cose... Sì. Andavamo a fare delle passeggiate in casa, a giocare a carte, non so. Ecco, venivano la mattina presto, la mattina verso le 11, messo mezzogiorno, venivano a mangiare. Sì. Sì, se lo ricordo. Metà mattinata in genere. Metà mattinata. Poi facevate la colazione, penso, all'aperto, no? Si ricorda se pioveva quel giorno, quei giorni, no? Non sa il giorno. Ecco, all'aperto, dopodiché, la sera cosa si faceva normalmente? La sera... Se lo ricorda, signora, perché è tanto tempo fa, quindi io mi rendo conto. Ah? Non lo ricordo. Facevate uno spuntino a base di prosciutto, formaggio, qualcosa del genere? Sì, quattro volte è capitato. Ah? Merende, cena, sì. Merende, cena e poi si andava via. Sì. Lei però non può collocare nel tempo... Assolutamente. Assolutamente questa visita fatta con i due nesi, non se lo ricordo. Va bene, grazie signora. Signora, lei non la sa collocare nel tempo, ma ricorda qualche cosa in relazione all'omicidio che fu consumato in quel settembre 1985 negli Scopeti, in relazione... Mi pare, mi pare, ma... Le pare, ma... Va bene. Anche perché io sto a Firenze, sono... Certo, certo. Va bene, d'accordo. Nessun'altra domanda, possiamo licenziare la testa? Grazie, senza altro. Signora, può andare, buongiorno. Grazie.